allora questo è un video risposta e per una persona e però siccome l'argomento interessante perché penso parlerò anche di tante cose che è un peccato che vadano così buttate lì in una chat privata e quindi meglio darli così pubblicamente perché la mia intenzione è fare il più danno possibile ai mostri diciamo questo è lo scopo anche del canale youtube qui e quindi è un peccato parlare di cose così importanti in modo nascosto io penso che noi ci hanno ingannato e soprattutto noi che siamo cristiani dovremo come il nostro esempio ha fatto che non si è preoccupato di c'è molta gente per esempio online che nasconde la faccia che non c'è paura come uno per esempio ultimamente mi ha scritto in privato e io gli ho detto ma perché scusa me l'hai detto in privato questa cosa perché non l'hai messo pubblicamente cioè non ci abbiamo le palle no e molti di questi qua si dicono si professano cristiani e addirittura c'è stato un profeta che ho seguito che lui addirittura lui era un profeta però un profeta mascherato quindi ti immagini che io mi immagino di solito il profeta quello che c'è nella bibbia diciamo che è stato bruciato vivo gli hanno tagliato la testa gente così diciamo perché diceva quello le sue convinzioni no è come giusto che sia no perché il cristiano no crede che una volta morto finita questa avventura carnale così materiale lo spirito continua a vivere vai a trovare il tuo creatore come mai invece questo profeta che abbiamo degli ultimi giorni poi tra l'altro quanti profeti abbiamo avuto e bisogna stare attenti perché insomma l'intenzione di chi ci controlla è metterci in testa che praticamente ma c'è Dio tranquillamente non devi fare niente può esterminare tutta l'umanità signora purtroppo ci hanno la scusa perfetta io credo di Dio bravo bravo non dovresti per paura io invece sono arrivato a questa conclusione che in questo test che Dio ci ha un po' come quando vai a scuola ci sono i bulli il tuo genitore ti lascia lo devi affrontare da te non è che può venire tuo padre e meno a quello che ti dà fastidio ti devi tirare fuori i coglioni oppure subisci il bullo per tutto il tempo e il bullo farà di te quello che vuole e tu stai zitto quindi e così parlando un po' della situazione generale perché stavo spiegando a questa persona che neanche io diciamo forse neanche io credo veramente perché se veramente credessi e ancora devo vedere uno così che in questa situazione che siamo adesso si sacrifica come ha fatto Gesù diciamo nel senso che in questa situazione soprattutto dal 2020 c'è poco da parlare c'è solo da fare ma non da fare tipo per attaccare qualcuno o far male a qualcuno no tu semplicemente devi fare ma io per esempio il fare lo considero anche prendere una multa diciamo come io ne ho prese diverse semplicemente senza aver fatto male a nessuno tranne che se secondo il sistema insomma avrei sparso questo nemico invisibile però insomma non ho fatto male a nessuno no violence no crime come dicono in inglese non c'è violenza se non c'è non è fatto male a nessuno diciamo però quanti crimini così inventati dal sistema ci sono che sono assurdi quindi però ecco la gente non vuole nemmeno prendere prendersi una multa una multarella una multarella neanche quella quindi senza arrivare a pensare a parlare Dio io la cosa più estrema potrebbe essere che ah potresti essere messo dentro oh no non sia mai oppure ancora più estremo ti potrebbero far fuori oh non sia mai soprattutto poi se sono cristiani quindi a me tutta sta gente mi fanno vomita mi fanno vomita e scusa parliamo anche del nostro profeta no insomma già ma il fatto è questo quando c'è Dio a noi ci ha dato questo cervello per usarlo e ogni volta che noi lo diamo quando ci mettiamo in gruppo non un po' come fa la pecore per non pensare lascia il pensare agli esperti allo stesso modo anche noi ci sono per esempio pecore anche in questi pochi c'è 95% di zombie e 5% di gente che ancora riesce a usare la testa ci sono ci sono pecore proprio pecore anche in questi qua che si pensano che hanno una testa ma anche loro lasciano il cervello quando trovano un gruppo ma anch'io l'ho fatto sta cosa poi piano piano ho cominciato a spulciare cose da solo ho capito insomma che anche questi qua manipolano e siccome è più semplice per noi trovare un gruppo così metti il cervello in stand by e te becchi le cazzate insomma te pappi le minchiate di quello che parlavo con Bill Gates con i potenti del mondo da facebook e le vedi come vere oppure l'apodeosi poi l'ha raggiunto quando voleva che la gente comprasse la bandiera con la sua moglie la sua mogliettina e poi c'era questa differenza tra lui prima della moglie era tutto gentile tranquillo poi appena ha trovato quello che doveva trovare insomma cominciava a mannaffare un culo ma c'è cazzo il profeta si è trasformato ha raggiunto il suo scopo ha trovato la mogliettina adesso ma chi se ne prega però ecco questo modo di perché anche lui è una pecora alla fine perché se non ha addirittura il profeta cioè i veri profeti sono stati buciavivi no? invece il nostro profeta degli ultimi giorni mette la mascherina nonostante sappia benissimo che è una presa per il culo no? però non ha le palle abbastanza e soprattutto lui è un profeta è un cristiano quindi si dovrebbe un minimo servire no lui ha la pensione che gli dà il sistema ma non vuole insomma disturbare più di tanto le cose smuovere più di tanto le cose e quindi che che altro dire del profeta allora intanto quanti e quindi ovviamente per tutta questa gente no? come ho detto c'è poco da dire c'è solo da fare tu dovresti e secondo me non c'è neanche da andare al supermercato a protestare perché se ci pensiamo diciamo se dobbiamo fare una cosa veramente giusta tu non dovresti nemmeno toccare il supermercato perché il supermercato è il pane che ti dà il sistema no? è loro è roba avvelenata fatto senza amore senza con quel sangue il sudore di schiavi no? di gente che ha prodotto quel cibo a parte tutto avvelenato con le peggio schifezze che non è più cibo ormai ma senza amore quindi quella roba tu la mangi insomma la cosa giusta da fare proprio per non per non disturbare nessuno proprio è staccarsi perché quelli che hanno fatto loro piano piano ci hanno staccato dalle terre no? ma noi siamo sempre stati staccati sempre sotto qualcuno e e quindi ci sarebbe da prendere un pezzo di terra così in montagna come sto io adesso no? trovi un pezzo di terra e cominci con le tue galline le tue mucche e fai quello che andrebbe fatto per tirare fuori quel cibo no? tu da solo senza chiedere niente al sistema senza protestare non devi fare il bambino che va a protestare da nessuna parte oppure c'era quel demente là il soldato là col video e io mi sto facendo la cosa perché non posso neanche parlare che sto su youtube perché underdress sotto sotto pressione ma quale pressione demente quale pressione nessuno ti sta mettendo la pistola in testa poi parlano di Nuremberg la cosa di il processo di Nuremberg 2.0 ma se siete voi deficienti che andate con le vostre è come se cioè non è come con i tedeschi che ammazzavano no è proprio il coglione che se va fa ammazzare è diversa la cosa stavolta no? e quindi quello che ci sarebbe da fare non c'è non c'è da dire più niente c'è solo che da fa e quello che ci sarebbe da fare se vogliamo fare veramente i giusti semplicemente trovare un pezzo di terra io so che i pezzi di terra poi alla fine tu li dovresti mettiamo che tu riesci a comprare un pezzo di terra con i soldi di satan e tutto quanto no? tu comunque dovresti vendere qualcosa perché comunque dai le tasse al sistema devi comunque è però il sistema non ti dà la licenza per vendere questi prodotti magari che tu potresti vendere così gli paghi anche le tasse no quindi la cosa l'unica cosa da fare a questo punto è il sistema non ti fa più mangiare se non sei bucato diciamo tu vai ti fai il cibo da te come avresti dovuto sempre fare però hai sempre preferito fare lo schiavo quindi tu fai da te prendi un pezzo di terra senza permesso a quel punto perché altrimenti loro ti chiedono comunque le tasse e cose ovunque comunque fai sbagli quindi tu ti prendi un pezzo di terra e cominci con le tue galline uova e poi ci sia il vegano e poi ci si fa l'orto e vabbè continui là con le tue forze mangi con le tue forze e poi quando arrivano che ti vogliono prendere per l'orecchia e mettete dentro oppure ammazzateli come hanno bruciato vivi i bambini lì alla chiesa in Waco Texas nel 93 dopo averli fatti soffrire per 50 giorni dentro casa senza bere senza ammazzando bambini così entrando tutti armati peggio schifezza beh cosa ti aspetti scusa niente a quel punto tu semplicemente per difesa per difesa tu ti devi sacrificare perché se loro vedono io non penso io non dico questo perché voglio che qualcuno senta questo messaggio ma il bull lo puoi fermare solo in questo modo qua quando lui vede che tu ti sacrifichi pur di avere la libertà lui si ferma a quel punto perché capito cosa può fare un bullo se tu ti sacrifici per avere la libertà no? sempre per difesa non per attaccare qualcuno senza motivo no mai fare niente di stupido ma per difesa capito e questa mentalità neanche fra i cristiani c'è più ormai capito di questa mentalità di sacrificarsi e chi l'ha fatto questo sacrificio te l'ha fatto Gesù stesso per dire e questi sono i cristiani di oggi e il sistema grazie a questo modo di pensare tanto viene Gesù adesso ci sistema tutto loro stanno apposso loro ridono di noi ridono di noi e abbiamo questa questa mentalità stupida che permette loro di avanzare tranquillamente proprio perché hanno da una parte il 95% di zombie che sono totalmente sotto i loro piedi e non c'è un problema questi qua che potrebbero creare un problema una parte sono senza Dio che vanno a protestare come dementi per strada l'altra che credono in Dio che Todi fa mettere una mascherina e insomma non si sacrificano come dovrebbero quindi loro hanno tutto perfettamente proprio piazza proprio pulita proprio possono avanzare tranquillamente non c'è proprio nessun contrasto e quindi è come ripeto non dico questa cosa per incitare nessuno alla violenza infatti la mia non è incitare la violenza ma è sempre all'autodifesa tu non mi fai più mangiare se non mi avveleni e io devo avere questo pezzo di terra per mangiare e mangerai finché non te lo lasciano fare perché come sappiamo ogni pezzo di terra in questa bellissima gabbia che viviamo è proprietà di qualcuno se non è di nessuno è dello Stato diciamo prima o poi verrà qualcuno a prendere la orecchia e a dirti perché non l'hai pagata questa perché non l'hai comprata perché così poi tu pagherai le tasse perché non c'è niente di tuo in questo posto per dire in poche parole non voglio dire magari il nome tuo perché e a me non mi va neanche così di parlare in privato perché non c'è niente da dire non voglio non c'ho niente da dire così in privato voglio che le cose siano pubbliche io come ho detto voglio fare il più danno possibile danno fra virgolette diciamo perché io sono una persona pacifica che è tutto però sto vedendo che neanche io ho queste palle insomma ho cominciato qua in montagna devo star a crearmi una capanna però sono benissimo a un certo punto dovrei insomma comunque avere un minimo di da solo insomma un po' difficile vivere così perché come ti ho detto insomma sto io fossi stato con me avrei semplicemente camminato tutto il tempo so che non è il massimo ma stavo facendo quella cosa là del camminare per fuggire da questo mondo schifoso però una volta che sai che non c'è scampo mi hanno fermato proprio la polizia per strada mi hanno detto guarda se continui a camminare praticamente ti faremo la lettera di via nel senso che tu non puoi più venire qua tipo nelle zone delle montagne e io come pecora che sono ho accettato ho preso la multa che mi hanno messo e tutto quanto e da codardo che sono come adesso vivo alle spalle di mio padre qua che c'è una casetta qui in campagna in montagna più che in campagna questo è proprio l'estremo abruzzo e quando potrei benissimo insomma alzare il culo e cominciare a zappare la terra da qualche parte finché non te vengono a trovare fai così non tocchi niente di questi zombie non usi niente di loro devi fare tutto da te fallo sacrificati a un certo punto ti bloccheranno e tu poi finisci questa avventura addio un po' come quando staccano la cosa da Matrix il cavo lì dietro la testa bravo bravo io mi immagino Dio che stacca la cosa bravo bravo mio figlio hai fatto un ottimo lavoro vieni è finita è finita bravo sei stato bravissimo però per il momento non è che non sto facendo niente che possa essere così che possa essere fiero diciamo del mio creatore niente sono un senza palla anch'io come il resto fra le poche persone che ammiro che hanno che sono sacrificate l'immagine quella classica è quella se fosse vera quell'immagine è quel quel ragazzo lì davanti ai carri armati quella storica chissà dove è finito lui quello è sacrificio totale coraggio puro proprio tutto quanto e un altro mio eroe è bill cooper lui anche si è fatto sacrificare è andato così senza piegarsi dal come fa il 99.99% di questi esseri questa perola insomma su questa terra ok se hai altre domande io preferirei contatto che non posso nemmeno dire il tuo nome perché tu magari non vorresti così essere così che qualcuno sappia pubblicamente e poi domande sul gruppo non mi interessa non mi fare domande su loro secondo me l'umanità si potrebbe salvare solo se comincia semplicemente ad usare la propria testa perché se noi il nostro cervello lo diamo ad un gruppo qualsiasi gruppo perché anche io pensavo tutti noi siamo tanti gruppi divisi potremmo unire le nostre forze no quando tu unisci tu dai il cervello a qualcun altro che lui lo prenderà e lo userà come vuole lui e di solito controllate la testa di questa mega mega gruppo che unisce tutti i gruppi buoni fra virgolette e quindi niente l'umanità si potrebbe raggiungere la pace diciamo semplicemente se continua se comincia per la prima volta a fare una cosa che non ha mai fatto cioè usare la propria testa e non fidarsi di nessuno perché il fidarsi di qualcuno ci ha portato a questo esattamente quello il problema quindi cominciamo ad usare questa parte dell'organismo che abbiamo che si chiama cervello perché non è che sta lì per non essere usata altrimenti soffriremo sempre sempre ogni volta che tu fai qualcosa che devi fare a qualcun altro tu soffri sempre è matematico per questo c'è stress c'è sofferenza perché noi vogliamo che le cose funzionino senza però che noi facessimo qualcosa ecco ho detto bene ok diciamo possiamo chiudere questa conferenza si chiude qua fratelli e sorelle